Vediamo come studiare una materia che non ti piace proprio. Come devi, come puoi, anzi, superare lo scoglio di quegli argomenti che proprio detesti o che ti annoiano e quindi rendono il processo di studio lungo, tedioso e talvolta sembra anche impossibile. Prima di parlare di questo, però, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Attraverso il link che trovi in descrizione ti basta inserire il tuo nome e una mail e proprio in questa mail riceverai tutti i contenuti del corso, tutte le varie lezioni con spiegazioni pratiche, teoriche, contenuti scaricabili e tanto, tanto altro. Ma in ogni caso, tornando all'argomento del video di oggi, vediamo anzitutto la sigla e poi ti spiego come dovresti studiare per quegli esami universitari quando la materia proprio non ti piace. Vediamo quindi insieme come devi studiare in modo efficace per una materia che proprio non ti piace. Ovviamente qui ho utilizzato anche un termine un po' più forte perché talvolta delle materie davvero ci fanno schifo, non perché abbiamo dei pregiudizi, ma perché ci annoiano, come dicevamo qualche istante fa. Ci sono alcune cose che possiamo fare per migliorare questa situazione, altre cose che non possiamo fare. E voglio dire questo come prima cosa perché su ciò su cui possiamo agire davvero possiamo ottenere dei risultati, ma in realtà dobbiamo partire da ciò che non possiamo cambiare. In che senso? Per esempio, le fasi di studio che dobbiamo seguire per studiare non possono dipendere da quanto preferiamo meno gli argomenti e le informazioni che dobbiamo studiare. Quindi questo è qualcosa su cui non possiamo agire. Non possiamo cambiare le fasi di studio per riuscire a studiare le materie che non ci piacciono. Le fasi sono sempre quelle, il processo di apprendimento è sempre quello. Un altro elemento che spesso si considerano sono le tecniche. Magari utilizzo una tecnica diversa così riesco a studiare una materia anche se mi fa un po' annoiare. In realtà le tecniche sono sempre quelle, non possiamo modificarle. È la nostra voglia, in un certo senso, di utilizzarle il problema reale. Quindi anche in questo caso le tecniche non possiamo cambiarle, quindi non possiamo agire su questo aspetto. Ci rimane un altro elemento che fortunatamente esiste, è quello su cui ci concentreremo, cioè l'ora di studio. Ogni singola ora di studio possiamo organizzarla in modo tale da ridurre il più possibile la noia, anche un po' quel senso di frustrazione che nasce e che sorge quando dobbiamo studiare informazioni che non ci piacciono. E questo lo possiamo fare in un modo in particolare e vediamo proprio qual è. Io ti consiglio di organizzare l'ora di studio in questo modo. Prendi quello che ti propongo come processo in queste serie di step, non in modo troppo rigido. Voglio farti capire qual è il meccanismo che sta alla base e poi tu lo adatterai un po' al tuo polso, quindi in un certo senso al tuo modo di organizzare il tempo. Quindi il nostro obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'esposizione continuativa nel tempo alle quelle informazioni, dato che non ci piacciono, facendo in modo che così sostanzialmente poi possiamo anche ridurre quanto, non lasciamo passare il termine, schifo ci fa la materia. In che senso? Partiamo per esempio con un primo set di 20 minuti di studio che sono organizzati però in 10 minuti di studio effettivo e 10 minuti di pausa. Lo so che potresti dirmi, 10 minuti di pausa sono un sacco di minuti persi che appunto avrei potuto utilizzare per studiare, ma considera che se studi per più di 10 minuti, i primi 10 minuti, e poi cominci a distrarti le informazioni al solito, già non ti piacciono, ti fanno annoiare e cala la qualità nello studio, tanto vale fare una pausa, concentrarti, tra virgolette, concentrarti su questa pausa, quindi stacchi un attimo il cervello e non lo dedichi a queste informazioni, di conseguenza sarà molto più facile successivamente tornare nuovamente a studiare. Infatti io ti consiglio di fare un primo ciclo di 10 minuti di studio, finiti i 10 minuti, fai 10 minuti di pausa, quindi sostanzialmente i 20 minuti sono divisi 50% e 50% tra studio e riposo. Ripeti nuovamente questo step, quindi vuol dire che finiti i primi 20 minuti, torni nuovamente a dedicare i secondi 20 minuti, sempre all'interno dell'ora di studio, primi 10 minuti di studio e 10 minuti di pausa. In questo modo, anche se la metà del tempo è appunto per riposarsi, per la pausa, in realtà noi stiamo ottenendo un altro risultato. Evitiamo che la noia o il poco interesse che dimostriamo verso questi argomenti fungano da motivo di diminuzione della qualità nell'apprendimento e di conseguenza la pausa ci permette di mantenere un buon livello di studio a prescindere dagli argomenti, potremmo dire. Alla fine ti chiedo di fare però un piccolo sforzo in più, in modo tale che comunque ci concentriamo sul nostro obiettivo, che è quello di studiare, non quello di fare la pausa, né tanto meno di essere troppo schiavi delle nostre emozioni, in questo caso negative, rivolte alle informazioni che dobbiamo studiare. Di conseguenza, cosa ti consiglio di fare? L'ultimo slot di 20 minuti, quindi il primo slot di 20 minuti, 10 minuti, 10 minuti diviso tra studio e pausa. Ripeti questo per la seconda volta e quindi rimangono, alla fine, gli ultimi 20 minuti. Dedica 15 minuti allo studio e 5 minuti di pausa. Quindi è come se facessi una sorta di rush finale di 15 minuti di studio, ma comunque la pausa anche in questo caso c'è. Quindi se dovessimo guardare un po' a quanto tempo abbiamo speso, 5 minuti in più di studio rispetto alla pausa, ma siccome c'è questa alternanza, hai la possibilità di recuperare e mantenere un buon livello di studio, una buona qualità. Non ti voglio prendere in giro, infatti non ti ho voluto spiegare tecniche per evitare che le materie ti facciano schifo o tecniche per farti piacere a tutti gli argomenti. È impossibile, è inutile che perdiamo tempo in questo senso. Cerca di strutturare in questo modo l'ora di studio e troverai dei netti benefici proprio perché, al solito, puntiamo sulla qualità nello studio piuttosto che sulla quantità, che poi in realtà è una quantità inutile perché vuol dire che non abbiamo studiato bene. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi, una strategia un po' alternativa per cercare di studiare perché dobbiamo farlo e soprattutto farlo in modo efficace quelle materie che non ci piacciono per dirle in modo pulito. Se dovessi avere altri dubbi, domande non fatti nulla ma scrivere nella sezione dei commenti attraverso i contatti che trovi in descrizione. Ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi in descrizione. Ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua attenzione e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani.